ahahahahahah ma che cazzo sta succedendo annamò con i punti canale state votando ma vaffanculo ma state votando con i punti canale ma siete dei ladri state falsificando le elezioni ma non vale scusami i più ricchi rivivincono ma non è valido aspetta voglio vedere la fine della bet per capire quant'erano le proporzioni ah ma hai messo un punto canale hai messo un punto canale ci stava no ma sarebbe figo se almeno mi dessero dei soldi a me metterei anche i bit cioè almeno mi prendo anch'io la mia fetta di soldi scusami se li deve prendere è solo quella merda di twitch scusa falsificano le elezioni e no ah no raga a parte che ho cito il pesce ma ragazzi no me li danno a me i soldi dei bit ah metti i bit filippo radiattivo butta i bit si fattura sto mese filippo vai vai filippo si fattura si fattura filippo si me li danno a me raga sono andato a vedere nella dashboard vai 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 che si fattura scherzo no si scherzo no si va a pedire potrei sbigliettare e sperare il prossimo turno di beccare un i due gold se becco i due gold non sarebbe male sai perché perché i due gold li uso per level appare comprare un pezzo con un biglietto e ottengo un pezzo dei taverna 3 qua è sempre win nel peggiore dei casi è un pochi danni questi è un abbastanza danni ciacu no alfa e omega oh scusa abbiamo detto alfa rome è arrivato alfa e omega comunque vi prometto che faremo ladder tra domani domenica lunedì adesso dipende quando effettivamente riuscirò però lo faremo aspetta un attimo però oh shit bandiera fa cagare in sto spot un locanda 1 potrebbe fornirci una tripla 2400 voti madonna che falsari che siete porca puttana e sta vincendo alfa romeo adesso arriva jackes che mette un milione di punti su ferrari e vince ferrari secondo me ripiano più basso che shit però va bene va bene va bene va bene lo fermo aspetta che devo anche ringraziare i sub gestisci elimina sondaggio elimina vabbè avete appena perso vabbè mille punti canale in 400 persone non credo che sia così importante lei ha preso il più 1 più 1 ai pezzi ed è molto bastardo vai qua stavamo per perdere stavamo per perdere per perdere belle ste meccaniche oh twitch oggi un grande bisogna dire twitch oggi hai combinato il macello dunque abbiamo livellato entrambi e non siamo muerti rollino compriamo dio de dio lì si compra dopo quello non è bello però io freeze lo stesso qua no qua io mantengo il freeze il turno dopo è 6 no il turno dopo è discovera 4 più 3 più 3 gli elementali c'è alfa e omega grazie mille per i 5 mesi bella quali tutto bene molto bene adesso ancora meglio grazie mille my friend le si vuole bene e la ringrazio molto per il supporto ciao alfone tra l'altro alfa e omega arriva alfa alfa romeo arriva alfa a supportare e grazie anche al signor ciacone per i 33 mesi grazie ciacalo 3 4 please 3 4 3 1 please oh un cecchino quel ragazzo lì grazie ciacchi grazie per i 3 mesi 33 mesi si magari 3 mesi 33 mesi bacio veramente enorme thank you so much non ho potere no vabbè terminerà prima o poi sto sondaggio non vedo quando finisce questo è il bello non mi fa vedere a che ora finisce il sondaggio però qui è la domanda importante se io prendo sto biglietto il discover eh ma tanto c'è ci sono i premi di una cupa quindi che cazzo mi preoccupo a fare 7 4 oidra perché il maggiordomo executus è brutto not really ne manca doppia coppia tocca dire eh tocca dire tocca dire peraltro l'unico minion che ha un biglietto l'unico minion che ha un biglietto è proprio anche quello che ci fa fare una tripla di merda però pur sempre una tripla veramente cagare come tripla però non interessa il discover e ti dirò di più di più taverna 5 c'è ovviamente il ragazzo ubriaco di di chef nomai e chef nomi con con quella 4 4 lì ti fa partire uber in vantaggio sulla board e tradando partendo già con numerosi con numerosi elementali acquistabili e boh non lo so l'importante qua è non perdere che io di serolla la win è pure meglio però l'importante per me qua è do not loose e 33 vite anche io la farei al 6 appunto perché abbiamo 33 vite mi fa un po' di male Giandice è molto probabile è molto probabile anche che io frizzi una tripla tra elementale della locanda il 33 e cazzi però questo è molto male invece come outcome è abbastanza brutto tocca dire ha vinto la Ferrari con 2.900 punti lei mi fa malino oddio mamma imp tanca tocca dire che mamma imp tanca però non abbastanza con 3 tripla al 5 mi danno una invece è abbastanza invece è abbastanza lei che dove le ha fatte le triple boh cazzi sua va bene va bene e va bene va bene va bene e ancor più va bene va bene va bene va bene mi piace mi piace finito il sondaggio va bene non credo di dover fare un altro sondaggio con i beat non credo di voler falsificare di nuovo gli eventi perché poi qua vince il più ricco allora non so se avete visto cosa dice la nuova patch per battlegrounds ma se siete forti nella top 4 o su cioè se siete nella top 4 vi da premi più brutti infatti mi ha dato dei premi di merda non lo so volevo farvelo presente perché magari molti non lo sanno se siete contro nei 4 nei 4 ultimi invece i premi di una cupa sono più forti e se noi prendessimo doppi battlecry con quel 3-3 là doppi battlecry con quel 3-3 4-1 se noi più due più due al windfiori non è male in realtà al più due più due al wind è niente è niente è completamente nulla a parte che era giustissimo prendere coso a parte che era proprio matematica dovevo assolutamente prendere coso io battlecry doppi perché qua mi prendevo Cristo e là c'è anche un biglietto su Maggiardomalo le skinny battlegrounds il 27 luglio quelli erano huge buff era un sto qua era un più 4-4 quello là non più madonna io volevo rag ma ginalo e ti dirò che secondo me quello è un bel biglietto frizzabile quello è un bel biglietto lui a sto giro mi sa che mi saccagna un pochino oddio non è detto lui è un 14 d'attacco lui è un 14 d'attacco d'attacco che fa belle cose fa grandi belle cose contro i pirati se partiamo subito noi attaccando possiamo sporcare la sua vita in realtà è più di un 14 che cazzo dico ho giocato tipo 3 elementali 14 un 17 mi sa o 18 18 18 perché ho giocato anche Ginny anche Ginny in elementale è un 18 19 e vabbè doppio taunt fa male che brutto quell'attacco lì vabbè Ginny non muore col trade il che è fine andiamo tutto a destra please no 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 o non ammazzate il 6-10 allora va bene però la cosa bella è che mamma si attiverà sicuramente un'altra volta solo una però sul 7-2 e niente mi ha rollato il 15 15% mi fa solo 5 danni però mi ha rollato il 15 l'infame di un Neprom si chiama così e non è razzismo c'è proprio scritto Neprom io ho pronunciato il suo nome a me piacerebbe anche livellare farla al 6 sto discover di biglietti però è impossibile perché dovrei farlo il turno prossimo e questo turno potrei non comprare i biglietti però finché si compra sta roba a noi va pure bene doppio maggio è proprio ficco con tutti sti cazzo di elementali è proprio ficco doppio maggio maggior domalo madonna lui è tardi però va bene allora ho fatto anche giusto l'order perché ho detto magari triplo quello lì invece ho triplato l'altro assurdo ed è assurdo come io invece non riesco a beccare quella merda di rag l'impressione che quel minion lì sarà apocalitticamente grosso da 30 a 48 non male tocca dire quel minion lì ciclone bisogna dire che non uccide abbastanza pezzi inizia il fight e gli ho letteralmente distrutto la board tu immaginati un fight dove inizia il fight perdi 4 minion tu immaginatelo inizia il fight la tua board si riduce di meno della metà questo è l'effetto che ho io attivo in questo momento adesso level up e compro bigliettino madonna proprio vabbè eeeh se non lo faccio adesso non lo facciamo di più jandice sei incazzata mi sa che è andata un po' di stronzate rag è sparito del tutto mi sa rag rag l'avevano ah ma rag l'hanno tolto ah ok allora eeeh cosa ne pensi di duelli aspetta un attimo che ora te lo dico fudo dammi tempo che finisco la run se io vendo questo poi posso vendere lui e faccio discover senza vendere il 15-15 intanto l'ho già triplato io quello quindi non ne ho bisogno madonna due gold buttati così a cazzo no non è vero che l'hanno tolto ragazzi è un meme è per dire che non lo sto trovando fatto quante cinque triple no quattro sarebbe da vendere un pezzo per imparare un biglietto ma non non puoi farlo lui è buono lui l'è buono quello lì rolla anche biglietti eh questa non la so sai non so che se lui rolla i biglietti fudo rifammi questa domanda quando sto per finire la partita e ti risponderò manny iniziamo noi plizo vabbè non cambia un cazzo in realtà invece ha cambiato un pochino di nuovo trade di merda oh porca puttana sai che credo che no possiamo ancora ucciderlo no niente si è morto è morto è morto è morto doveva ittare qua e poi là cazzi sua cazzi sua lei non ci ha creduto abbastanza ha fatto le triple troppo presto è la madonna top 3 è becco il morto anche vabbè questo è un po' di culo tocca dire che questo è culo sai che non lo so se mi dai biglietti scopriamo subito se mi dai biglietti finalmente puttana la merda non lo so no vabbè ma raga ma che cazzo sta succedendo stran ma raga ma che cazzo vuol dire sta partita ma raga ma si è rotto ma si è rotto hs ma si è rotto hs ragazzi mi sa ma si è rotto arston ragazzi ma veramente si è rotto hs ma che cazzo succede c'è veramente puttana che buscio cazzo mi sa che ti prego attacca su gini bel eh no me l'ammazza gini gini qua tu su gini è questo ma che cazzo sta succedendo ma sei impazzito vecchio ma siamo pazzi beh adesso tripliamo spero no non credo di aver bisogno di divan shield no vorrei ben vedere aspetta vediamo se riesco a fare la combo no amico scendi dal pc che lo spegni vecchio ma che cazzo stai dicendo aspetta aspetta buoni 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 non è finita non è finita oddio ha preso l'unico mac non è finita non è finita non è finito non sono stato punito dal misplay ma che cazzo è sta roba 5 gini ma vecchio ho fatto la combo di triple ho fatto tripla di gini che mi ha dato tripla di rag no tripla di rag che mi ha dato tripla di gar into tripla di gini quasi again vergogna dovrei vergognarmi se solo non avessi perso mille punti in due giorni ti prego rolliamo il 7% di loss ti prego rolliamo che faccio doppio rag dorato doppio rag dorato doppio gini dorato gar dorato ti prego ucc... no 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 tu vai lì no no eh no è lì tal nostro è lì tal nostro era doppio triplo rag doppio triplo gini triplo gar vabbè ma di cosa cazzo stiamo parlando ma che cazzo di run senza senso ma ciao youtube a mani bassissime capisci di stare sculando quando non vuoi perdere per continuare la run a mani 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 Grazie a tutti.